Il piano di dimensionamento scolastico che nei mesi scorsi ha fatto tanto discutere in realtà sarà operativo a partire dall'anno scolastico 2025-2026. Una prosecuzione, ha specificato l'assessore regionale all'istruzione Roberto Sant'Angelo, del lavoro avviato lo scorso anno. Non saranno soppresse scuole, ha specificato Sant'Angelo, ma gli interventi riguardano solo direzioni e uffici scolastici. Certo, per le aree interne ci sono difficoltà, ma si è cercato di garantire l'offerta formativa evitando la riduzione dei servizi. Se a Pescara la situazione sembra risolta e a Chieti che si registrano maggiori difficoltà, almeno così dice la provincia di Chieti, che si è espressa contrariamente mettendo sul piatto, hanno detto, le discutibili scelte come l'aggregazione dell'alberghiero Marchitelli e del comprensivo di quadri. L'assessore Sant'Angelo risponde così. Le polemiche sono fisiologiche quando si fanno questo tipo di atti, ma è bene ricordare che purtroppo la regione ha dovuto attuare i poteri sostitutivi perché il dimensionamento scolastico è proprio competenza delle province che debbono concertare sui loro territori delle proposte. Ecco, questo non c'è arrivato dalla provincia di Chieti e anche dalle altre province e quindi ho dovuto applicare i poteri sostitutivi perché altrimenti entro il 30 di novembre ci avrebbero commissariato. È bene ricordare che non chiude nessuna scuola, quello che si accorpa sono le dirigenze scolastiche, quindi un dirigente scolastico non si occuperà di una scuola, ma di due, tutt'al più di tre plessi e i presidi sui territori rimangono invariati. Quindi delle volte le polemiche non servono a nulla, l'interesse è tenere proprio aperte le scuole nelle zone di confine della nostra regione e attraverso questo tipo di iniziative si va in quella direzione. Aggiungo che la vera battaglia è quella di aumentare l'offerta formativa perché i numeri sono impietosi, oltre il calo demografico c'è anche il calo degli iscritti all'interno delle scuole, ma immaginare dei nuovi corsi, delle nuove opportunità, come alcune scuole hanno fatto e hanno richiesto e abbiamo autorizzato come il 4 più 2, possono essere sicuramente degli elementi attrattivi affinché poi le scuole non perdano gli iscritti e rimangano con la forza per rimanere aperte anche le dirigenze.